Sì, io partirei con calma però, adesso l'estate ci siamo goduti questo momento bellissimo, siamo riusciti a vincere finalmente il campionato e ora siamo già proiettati su questa nuova avventura. Il gruppo che è rimasto in parte lo stesso dello scorso anno con alcuni nuovi innesti, come l'hai trovato in questi primi giorni di testo? Ho avuto un'ottima impressione, soprattutto dai giovani, che secondo me sono la parte più importante di questo campionato, dove ne devi far giocare per forza quattro. Poi il gruppo dell'anno scorso comunque ci conosciamo un po' tutti e secondo me ci siamo mostri bene, ora sta a noi e speriamo bene. In attacco la concorrenza non manca, dovrai anche dividerti i gol con dei compagni di reparto di spessore? Sì, sì, che ben venga, c'è Marco che lo conosciamo tutti, poi è arrivato anche De Vecchisi che comunque me ne parlano bene. Questo non è un problema, sarà un problema per il mister, noi dobbiamo pensare solo a darci dentro in allenamento e poi stare al mister e decidere chi fa scendere in campo. Di solito gli attaccanti a inizio stagione promettono il numero di gol, tu cosa dici? Io ti prometto tanta corsa e tanto impegno, poi il numero di gol non lo so, comunque speriamo di fare i miei, i miei che ho fatti negli ultimi anni, andrebbero già bene.